Il problema non è denunciare, il problema è incoraggiare a prendere in mano la realtà. Tante volte noi aspettiamo che siano altri, questo l'abbiamo già detto in altre occasioni, però è evidente che mancando forse dei parametri di riferimento la gente si chiude, anziché vivere con entusiasmo il suo protagonismo. Io penso che non sia un problema di denunciare chissà che cosa, perché fatti eclatanti possiamo dire che non ne abbiamo, a parte qualcuno gli viene bruciata la macchina, a un altro gli bruciano l'ufficio, a un altro gli bruciano il litro, ma sembra che siano tutte cose di autocombustione, quindi sembra che si costruisca in modo anomalo, però di fatto non abbiamo grossi avvenimenti, tutto è partito dalla manifestazione di Cetraro alla quale io ho partecipato. La cosa che più in qualche modo sollecita, la denugi in questo caso, è che chi dovrebbe tutelare la dignità dell'ambiente, la dignità della persona, si scaglia contro altri ipotetici attori. Normalmente da noi, adesso non voglio usare una frase impropria, è di modo che è l'andrangheta, il criminale di tutto il territorio, però secondo me non è così, il vero criminale che domina il territorio è la corruzione, che non riguarda solo la malavita e il malaffare, ma riguarda anche i colletti bianchi, riguarda anche i camici bianchi, riguarda anche i professionisti, riguarda anche i commercialisti, riguarda tutto cioè quel tessuto socio-economico che in qualche modo garantisce una stabilità alla vivibilità del territorio, per cui scagliarsi contro una presenza che c'è e dimenticare tutte le altre presenze, basterebbe pensare anche alle logge più o meno manifeste che ci sono e che gestiscono economicamente il territorio. Questo chiaramente serve solo a velare un male più complesso che coinvolge tanti cittadini che con manifestazioni di quel tipo si ritengono esclusi dalla criminalizzazione, mentre il vero problema, e riguarda anche il mondo politico, quindi il Presidente della Convenzione Episcopale nel suo intervento di prolusione all'inizio del convegno dei Vescovi ha detto che non bisogna promettere ciò che non si può, cioè la mentalità di promettere sempre, mantenere mai, educa alla disaffezione politica. Quindi quello che nei nostri ambienti noi viviamo è ancora questa volontà di parcellizzare la idealità delle persone con promesse illusorie, mentre occorrerebbe intanto leggere meglio il proprio impegno, perché ciascuno di noi può concorrere a una legalizzazione degli ambienti, non bisogna sempre aspettare altri, ognuno faccia il suo dovere, ognuno faccia il suo lavoro, e lo faccia con onestà. Cosa vuol dire con onestà? Non è nulla di, come dire, particolarmente ingrescioso, pesante, semplicemente deve rispettare gli altri. E allora chi fa il bar fa le ricevute fiscali, chi fa il medico vive la dignità della sua professione senza doversi arricchire a tutti i costi, chi fa il politico rispetta ogni cittadino e non solo quelli della sua cordata, e allora in questo modo chi fa il professore tratta con dignità tutti i ragazzi, i bambini, non solo quelli delle famiglie che hanno una certa titolarità. E allora ci accorgiamo che pian piano l'aria che respiriamo cambia. E in questo cambiamento dell'aria che respiriamo, anche quelli che vivono del malaffare si rendono conto che cambia tutto. Quindi il problema vero è che ciascuno deve cominciare, io penso che tantissimi lo facciano normalmente, purtroppo senza andare sull'home page, no questo tante volte lo dico perché sull'home page va solo la criminalizzazione delle situazioni, ma noi abbiamo nel nostro territorio tantissime persone, io penso la gran parte delle persone, che vivono con semplicità la loro vita sperando di essere rispettati nella loro dignità, di portare avanti le proprie famiglie, il proprio lavoro, e tutto ciò che può concorrere a migliorare il territorio.